Roma a Samantino, il tocco per De Rossi, lancio il profondi anche il capitano, agri dell'area di rigore, ecco Totti, 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 tira la palla che deve spinta, tira, go! 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 Simone! Simone per rotta, il gol del vantaggio a Roma, secondo gol, secondo gol in campionato per lui ed è il raddoppio della Roma, il gran tiro da parte del capitano, la respinta di Gliezzo e sul pallone come un falco è andato Simone per rotta ed è il gol del 2-1. Roma quindi che passa in vantaggio, siamo quasi al finale, nel finale del primo tempo, gol di Simone per rotta sulla respinta di Gliezzo è andato Simone per rotta, si è gettato sul pallone e ha segnato il gol del vantaggio, 2-1 per la Roma, siamo al finale del primo tempo. Grazie a tutti!